Val Bondione. Ho deciso di fare una cosa un po' diversa, un'escursione in montagna in solitaria. Questi qua in bicicletta che salgono proprio non li invidio. Sono arrivati, sono partito, speriamo di trovare il sentiero, un posto bellissimo. Già straticoso il sentiero. No, ma sti c***o! Che bel sentierino! Già bello... posto. Quella cascata è una cosa spettacolare. Ci voglio andare. Siamo a metà strada. Questo posto è pieno di cascate. Che non faccio mancare niente. Che non faccio mancare niente. E' staccata la suona. Questa strada non finisce mai. Mi dicono una mezz'oretta ancora al rifugio che becco la tempesta. E' spettacolo. Un po' smesso di piovere. Dovremmo quasi essere. Credo che mangerò lì sotto. Dovemmo molto. Se conviene tornar giù... ...ha un freddo cane. mi conviene darmi la mossa mi conviene darmi la mossa